Sei mesi di incontri pubblici per progettare la Bari del futuro. L'amministrazione comunale accelera per stilare il nuovo piano urbanistico generale, strumento di pianificazione del territorio comunale che riorganizzerà l'assetto edilizio della città. Partiranno nelle prossime settimane gli stati generali di rigenerazione e dialoghi pubblici, prima nella sede dell'Urban Center e poi nei 19 quartieri dove cittadini ma anche associazioni e realtà del territorio potranno proporre idee e contribuire al nuovo PUG. I pilastri saranno il verde e la sostenibilità, elementi fondamentali per sostituire il vecchio piano Quaroni, ormai obsoleto e non più in grado di soddisfare le esigenze di una città in continua espansione. Noi faremo una partecipazione che sarà sicuramente per temi e sarà itinerante nei vari quartieri. Ovviamente nei vari quartieri verranno trattati i temi che sono quelli che più caratterizzano le esigenze e i bisogni di quei quartieri, dalla mobilità al verde perché i nostri quartieri sono molto diversi tra loro. La partecipazione sarà quindi un elemento fondamentale per il nuovo PUG. Ascoltare le esigenze dei cittadini significa contribuire alla ricucitura di quartieri periferici slegati dal tessuto urbano e puntare al decentramento erogando servizi in tutte le zone della città. Il sindaco Vito Leccese durante il suo intervento ha spiegato che attraverso il nuovo piano urbanistico generale si potranno affrontare i problemi causati dal piano casa regionale che ha riversato sulla città 1 milione e 600 mila metri cubi di cemento. Alla fase di partecipazione seguirà la stesura del PUG che sarà approvato in consiglio comunale. L'idea è quella di farlo arrivare in aula dal fino entro la fine del 2025.